A Taranto, l'arcivescovo Monsignor Filippo Santoro ha incontrato gli abitanti della città vecchia insieme ad alcuni rappresentanti della politica locale e regionale. Obiettivo dell'incontro è raccogliere le istanze degli abitanti della città vecchia e sottoporle alle istituzioni. Sentiamo. Raccogliere le istanze degli abitanti della città vecchia e sottoporle alle istituzioni. L'arcivescovo della diocesi di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, lo aveva già fatto due anni fa. Ieri ha riproposto l'idea in episcopio invitando il sindaco del capoluogo ionico, Ippazio Stefano, e il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Tantissimi problemi della città vecchia manifestati dagli abitanti, ma anche da associazioni e imprenditori locali. Il primo passo per lavorare bene insieme, ascoltarsi, per questo ho voluto fortemente questo incontro, ha ribadito Santoro. La legge per Taranto prevede che arrivino 800 milioni di euro, in parte solo 9 milioni, ma sono previsti altri bacini da cui attingere, verranno impiegati per la riqualificazione della città vecchia. Partiremo, ha affermato il sindaco, dalla messa in sicurezza di tutti gli edifici pericolanti, affinché le imprese possano lavorare alle ristrutturazioni. Abbiamo presentato al governo 140 schede progettuali, che prevedono tra l'altro la messa a nuovo di Palazzo Troilo, Palazzo Carducci e un altro immobile che fungerà da casa dello studente in via Garibaldi. E poi un adeguato sistema fognario, luce e gas predisporremo alla banda larga. I tecnici del governo ci aiuteranno a cambiare tutta la città in una previsione di 10-15 anni. Alcuni consiglieri regionali stanno lavorando a una legge pugliese che vada a integrare gli interventi non previsti dalla legge nazionale per Taranto, ha invece spiegato Emiliano. Io stasera sono qui per ricordarvi quanto la vostra città sia importante per la Puglia il mezzogiorno. La Curia sta facendo un grande lavoro di ricucitura tra territori e istituzioni e non posso che esserne contento. Lavoriamo insieme per costruire una resistenza proattiva.